Nel caso dovessimo eseguire una delle operazioni viste nei video precedenti su diversi file o cartelle contemporaneamente, può essere utile dare uno sguardo alle tecniche di selezione multipla che abbiamo a disposizione. La prima tecnica che vediamo riguarda la selezione di tutti gli elementi di una cartella. Per eseguire questa operazione esiste una comoda scorciatoia da tastiera. Ci basta premere la combinazione di tasti CTRL-A e vediamo che tutti gli elementi vengono selezionati. Al solito per deselezionare clicchiamo su un'area libera. Ovviamente il comando Seleziona tutto viene applicato sulla finestra Attiva in quel momento. Se l'area attiva è quella del desktop, facciamo un clic sul desktop, il comando CTRL-A seleziona tutti gli elementi che si trovano sul desktop. Se invece ci interessa selezionare solo alcuni elementi della cartella, ed in particolare questi elementi sono vicini gli uni agli altri, ci sono varie tecniche di selezione multipla che possiamo utilizzare. La prima la conosciamo, è la selezione tramite trascinamento. Facciamo clic appena al di fuori del primo elemento da selezionare e trasciniamo senza rilasciare il tasto del mouse fino a comprendere l'ultimo elemento nel riquadro di selezione. Occhio che se faccio il primo clic quando il puntatore è sopra un elemento, quell'elemento viene semplicemente selezionato e trascinato. Per la selezione multipla invece è importante effettuare il primo clic in un'area vuota, un'area neutra della cartella, e trascinare verso l'ultimo elemento della selezione. La seconda tecnica di selezione di file adiacenti si esegue utilizzando il tasto Shift. Prima di tutto facciamo un clic sul primo elemento della selezione, poi andiamo all'ultimo elemento della selezione e appena prima di cliccarci sopra teniamo premuto il tasto Shift. Tutti gli elementi che si trovano fra il primo e l'ultimo oggetto cliccato vengono selezionati. La cosa essenziale qui è tenere premuto il tasto Shift nel momento in cui si effettua il clic sull'ultimo elemento della selezione. Inoltre se ripremiamo il tasto Shift e continuiamo a cliccare su altri elementi, la selezione si ridimensiona fino a comprendere tutti gli elementi fra il primo e l'ultimo oggetto cliccato. Nota che se passiamo alla riga più in basso, la selezione continua da sinistra a destra per tutti gli elementi fino all'ultimo selezionato. Una piccola avvertenza, se il tasto Shift viene tenuto premuto prolungatamente senza che nessuna operazione sia effettuata, potrebbe comparire una finestrella relativa ad una particolare funzionalità di Windows spesso accompagnata da un suono un po' allarmante. Per far scomparire la finestrella basta premere il tasto Esc. L'ultima tecnica di selezione multipla di elementi adiacenti si esegue utilizzando il tasto Shift in combinazione con i tasti freccia. La prima cosa da fare è selezionare il primo elemento con un clic, poi premiamo il tasto Shift e senza rilasciarlo premiamo i tasti freccia per guidare la selezione. I tasti sinistra e destra estendono la selezione di un elemento alla volta. I tasti su e giù muovono la selezione di riga in riga. Anche in questo caso la cosa fondamentale è tenere premuto il tasto Shift mentre si estende la selezione, altrimenti la selezione sparisce. Un'ultima nota, qualsiasi tipo di selezione multipla funziona allo stesso modo indipendentemente dalla modalità di visualizzazione di file e cartelle che stiamo utilizzando. Continuiamo a parlare di selezione multipla nel prossimo video. �iamo Qui No